L'Italia non è più un'osservata speciale dell'Unione Europea, la quale ha deciso di chiudere la procedura di infrazione con cui, quattro anni fa, ci mise sotto controllo per deficit eccessivo. I guai dell'Italia erano appena iniziati e dagli occhi dell'Europa non sembravamo più affidabili, per questo ci misero sotto osservazione. Adesso, evidentemente, siamo riusciti a riguadagnarci una certa fiducia da parte dell'Europa che ha deciso perciò di chiudere quella procedura ispettiva che ci aveva fatti retrocedere in serie B. Insomma, siamo tornati in serie A, ma per disputare quale campionato? La decisione dell'Unione Europea, a leggerla bene, si basa più su una speranza che su dati concreti. La nostra condizione è migliorata su basi fiscali, non su basi finanziarie, cioè la nostra salute resta sempre precaria e soltanto l'incremento delle tasse ha evitato che l'indebitamento ci facesse precipitare nell'insolvenza. La promozione in serie A non ci permetterà, non ci metterà in condizione di partecipare alla conquista dello scudetto, ma ci confinerà nella più scomoda battaglia per non retrocedere. E noi, è meglio dirlo, siamo i primi candidati alla retrocessione, ovviamente se le cose non cambieranno. Toccava però all'Europa metterci nella condizione di farle cambiare, come per esempio permettendoci di sforare il 3% del rapporto debito PIL, come ha fatto per la Francia, come ha fatto l'Europa per la Spagna. E invece, invece di promuoverci e darci la possibilità di mettere su una squadra competitiva, l'Europa ci ha soltanto promossi, dopodiché ci ha abbandonati al nostro destino. E c'è persino chi esulta per questo. Per fortuna Letta ha capito il trucco e pur facendo buon viso a cattivo gioco ha messo il governo in allerta. Non illudiamoci, la decisione dell'Europa è una trappola. Continuiamo a lavorare per le riforme, questa è l'unica strada che ci farà restare con una certa sicurezza in serie A.